La Commissione Bilancio del Comune di Sulmona domani mattina alle 9 al terzo tentativo si appresta a deliberare per l'affidamento della gestione dello chalet dell'eremo all'Associazione Celestiniana. Per replicare a chi si sta opponendo al rinnovo della gestione all'Associazione interviene il Presidente della stessa Giulio Mastro Giuseppe. Esortiamo coloro i quali diffondono estemporanei comunicati stampa per orientare strumentalmente le scelte amministrative del Comune a pregiudizio indotto del buon nome degli interessi legittimi di questa associazione a stemperare i propri eccessi, scrive Giulio Mastro Giuseppe in una lunga nota. Se oggi esiste la questione celestiniana, se il valore dell'esistenza di un'area legata alla presenza di Pietro Damorrone e dei Celestini è diventato un fatto, se Celestino è tornato ad avere cittadinanza e residenza in città, vedi la statua, se c'è un dibattito sul futuro di quel pezzo di territorio che noi abbiamo chiamato distretto dello spirito, se esiste ancora la possibilità di annoverare l'eremo tra i beni culturali posseduti dall'amministrazione, se è stata restituita alla città, ai pellegrini, ai visitatori, ai turisti, la possibilità di accedere a quei luoghi e di goderne, ci pare di dover affermare, senza tema di smentita, che il merito è da scrivere soprattutto all'oneroso attivismo dell'Associazione Celestiniana. Infatti, innumerevoli e verificabili sono state le iniziative culturali, ricreative, sociali, editoriali, di cui l'Associazione si è resa parte attiva negli ultimi 15 anni, anzi 30, da quando si costituì il primo nucleo. Il comune di Sulmona, ricorda Giulio Mastro Giuseppe, con l'aggiunta Federico I e l'aggiunta Ranalli dopo, ha riconosciuto con due distinte delibere, attualmente entrambe esecutive, le capacità progettuali ed operative dell'Associazione Celestiniana, ed è per questo che oggi all'attenzione del Consiglio Comunale la delibera di rinnovo della concessione, per i meriti che l'Associazione ha acquisito sul campo, cosa che oggettivamente non si può asserire per i pretendenti da troppo poco tempo sulla scena per poter essere in qualche modo valutati. Giulio Mastro Giuseppe ricorda infine che l'Associazione Celestiniana, oltre a vantare crediti documentati nei confronti del comune di Sulmona, per aver anticipato con mezzi propri le risorse necessarie a realizzare gli interventi, atti a riaprire l'area, secondo le prescrizioni previste nella perizia geologica e nel conseguente protocollo di sicurezza, resta a tutti gli effetti titolare della concessione per lo chalet e l'area circostante, come precisato nella diffide inviata al Comune.